5, mi piace questa risposta. Sono interessata. Venga, numero 10. A chi vuoi fare la domanda? A Giuliana. La domanda numero 10, venga. Ti piace la pizza? Ti piace la pizza? Che numero è ti piace la pizza? Numero 8. Cosa hai scritto, Giuliana? Sì, benissimo. Moltissimo. Guarda, vediamo un po'. Ah, è fatto giusto. Guarda, Giuliana, sì. Moltissimo, molto, molto, molto. E invece, sì, benissimo, che cosa risponde? Qual è la domanda per sì, benissimo? Um, sai mua thai.